Ci troviamo qua a Varano con un equipaggio, con un pilota varanese, Simone Bucci. Allora Simone, come sta andando? Per adesso bene, abbiamo fatto la prima, si poteva fare meglio ma dopo un anno che non si corre siamo un po' arrugginiti, però bene, abbiamo toglie un po' di arruggini. Ok, adesso la tappa di adesso qual è? Varano? Adesso è la Varano, partiamo da ben conosciuta, speriamo di far bene. Ok, e arriviamo a Mariano, Mariano? Vivi per Mariano. Ok, bene, bocca al lupo. Crepe il lupo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti Grazie a tutti